Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi come potete vedere ho qui davanti due uova di Pasqua Allora, scusate, io devo ancora creare il mio canale Instagram E intanto vi dico le tre cose da scrivermi quando l'avrò creata Allora, uno, tutte le cose che vi ho chiesto nel canale Viaggi Due, di cosa avevate le uova Tre, di mandarvi il vostro disegno dell'arcobaleno con scritto sopra e sotto, andrà tutto bene E quarto, che cosa avete trovato nelle uova che avevate Allora, intanto però iniziamo Con questo coronavirus comunque ci potremo sentire e conoscerci via Instagram Allora, comunque ho questo uovo delle Glamour Charms E poi, questo di me contro te, non vedo l'ora di aprirlo Per chi ha visto il video di me contro te Sa già cosa c'è all'interno anche se Anche se in ogni uovo ci possono essere delle sorprese diverse Comunque, allora, adesso torniamo a noi Iniziamo a scattare Ah, dietro la telecamera Perché io non sono da sola Dietro la telecamera ci sono la mia nonna che ha mangiato con noi per pranzo di Pasqua Ah, perché oggi è Pasqua appunto E per chi vedrà il video subito E per chi vedrà il video subito Vabbè, ve lo dico tutto Comunque, vi vedrà il video subito Iniziate like Iscrivetevi ai miei due canali La vita è viso via E mi piace molto via Anzi no Ora apriamo le uova che saranno meglio Iniziate like Intanto vuoi farmi vedere Aiuto La famosa frase com'è Ciao a tutti ragazzi Vai mettete like Allora ragazzi No, non ragazzi Date dietro la telecamera Ah, se lo torna dietro? Sì E lo apriamo questo Comunque ci vediamo dopo Ciao Ragazzi Allora Adesso apriremo Questo uova gigante La faccio La gira volta Aiuto Vediamo un po'? No Allora Vediamo cosa c'è Mi sa che ci vuole Tenetemi questo Mi sa che ci vuole No No? Lo fai? Sì 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 Intanto Tophia è pronta ad assaggiare le uova Aiuto Vediamo un po'? Oh oh Vai Spacca Spacca Wow Che bello E Luca che cosa c'ha? C'è nulla Come? Non c'è nulla da te? No Ci credo Quello cosino lì Ah sì Ok C'è Questa la voglio No No Ah no? Lo credevo così No Ascunce A noi A noi Noi meglio Noi meglio Noi No Noi no Ma buonissimo E mai Ma ci credo No Basta A voi No 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 Ok No 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 Ok Allora Ok Allora Non vediamo dopo No 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 La sorpresa ora Se mi riesce a dirla Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so È un codicino È un codicino Fatto a mano Guarda che bellino Mamma mia Questo l'ho Non è vero Cioè Per lo meno Per lo meno 10 euro vale Questo articolo È stato prodotto È smaltato A mano In Italia Wow Esente dal nickel Non c'ha il nickel Cos'è? Si fa senza Vabbè ragazzi Ci vediamo dopo per aprire il nuovo Poi mi conto che Ci sarò a tre ore Ciao Allora ragazzi Siamo Pronti Per aprire Nuovole Mi conto che Wow Perché Abbiamo fatto molto Presta Con quelli Ok Quanto ho trovato No no Te l'ho fatta No no Te l'ho fatta No No la carta La carta La carta La carta Non finisce più No 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 Quell'altro Se l'ha con tutta la curva No la carta Dai 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 L'uovo c'è già un po' rosso Eccolo 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 Ah guarda C'è una cosa Cos'è? Eccolo 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 Cosa è? No 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 C'è tanta roba C'era bellissimo Dai Eccolo Se riesca ad aprirlo Vediamo che cos'è Vai vado a prendere le cose Sì Aspetta Voglio provare ad aprirlo da sola Vai vai Vediamo un po' come si riesce Trovare le sette Ok aprilo te No aprilo te No aprilo te Apro io Apro io Intanto assaggiamo l'uovo Apro io Vieni davanti Grazie Qual è il più buono? Un vero Un vero Vedi c'è il sistema Questo Quello 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 De l'uovo rosa Un black notice No E no Un black notice Un black notice Ne me contro te Un black notice Ne me contro te Mamma mia Che bello Quello ha un valore Eccezionale Venga Uh 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 Vai così A te Allora Allora Reso conto Delle uova pasquali Mi piace di più La sorpresa No Dell'uovo rosa E anche il cioccolato Dell'uovo rosa Quindi Ok Poi cosa hai ricevuto Oltre alle uova Cosa hai ricevuto Un regalo Un regalo della mamma Un regalo della mamma Un regalo della nonna Un regalo della masqua Ah sì Ah sì Guarda la maglina sulla cioccolata Magari sì Amore c'è sporco di cioccolata Amore c'è sporco di cioccolata Io non lo aprirei tutto Lo facciamo solo vedere Che ci sono qua Gli unicorni Gli unicorni Guarda I pattini Come mi piace a te E i pattini Come mi piace a te Bello Ora abbiamo la nostra maglietta Deve essere un disegno più piccolo Per aspettare Di sotto Sembra c'è delle stelline Ah sì Sempre le stelle Ah no Da te c'è il sotto Ah c'è il sotto C'è le stelline Guarda C'è le stelline Ma che bello che è L'abelline È proprio come L'abelline La maglina deve essere più visita Comunque Questo si vede che è più È diverso Perché è più spessa la cioccolata Sì Questo è tipo Kinder Questa è la cioccolata più fine Ecco A me piace più il coltello dell'uovo Ma che bella Questa è bellissima Questa ti serve Questa ci vuole tutta Sì 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 Scusate Mi sono messo la camicetta Per poter vedere 3 3 Benissimo Può andare come Pasqua Sì Insomma Ma via La nonna Adilio ha detto che Con i capelli biondi Sembrava Dei bambini Comunque Questo video Come avete visto Si stava basando sulle risate Allora E' una cosa dobbiamo fare Ora dobbiamo fare Dobbiamo fare Dobbiamo Dobbiamo dare Sì A parte quello Comunque dobbiamo dare un voto Allora aspetta Alla cioccolata Ma non importa Le assaggiate Le assaggiate Prima Questo Dell'uovo Delle Gremont Quello Del Il gioiello Questo Assaggiamo Questo Insomma Quindi qual'è più buono Certo E' la sorpresa più bella Quell'altra Cioè questo E' la sorpresa E' la sorpresa Che cioccolato più buono Di micro sottega Quell'altro Quello Quello Dell'uovo rosa Questo qua E' la sorpresa 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 E' bello E' stata fatta Non c'è la sorpresa No Non c'è la sorpresa No Non c'è la sorpresa No Comunque ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto mettete tanti like se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale ah e buona Pasqua a tutti e a tutte le vostre famiglie mi raccomando andrà tutto bene ciao ah ragazzi nel dettaglio vi faccio vedere questo prima che finisca il video ciao